Con il ministro De Rio c'è un rapporto corretto, franco, aperto, buono, anche nelle differenze che sono tante ancora oggi, su tanti temi, dalla scuola a Bagnoli, al Jobsac e altro, però il ministro ha apprezzato molto la piazza, ha apprezzato la metropolitana, si è preso l'impegno di continuare a finanziare quest'opera strategica che è una delle più importanti d'Italia, ha trovato Napoli in buona salute, mi ha fatto i complimenti, è stata ieri sera a Napoli, credo che sia importante, si stia percependo quanto questa città tra mille difficoltà tiene alta la testa e soprattutto dritta la schiena, di fronte anche a un sistema opprimente.